Il Ponte dell'Immacolata è stato solo il primo di una lunga serie di festività da vivere in piena sicurezza senza sorprese. Ne è convinta la Polizia che prepara il piano di prevenzione di concerto con le altre forze dell'Ordine. All'indomani del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, preseruto dal prefetto dell'Aquila, dispositivi di controllo del territorio rafforzati nei punti strategici, centri commerciali, uffici, centro storico, luoghi dedicati alla movida. Nei rossi sul calendario, almeno tra Natale e Capodanno, si cercherà insomma di mettere in campo più pattuglie come effettore terrente. Il campanello d'allarme è suonato nuovamente lo scorso weekend con la Megarissa in centro storico, non la solita scazzottata ma una lite con coltelli, sangue e lancio di bottiglie. Nel Ponte dell'Immacolata non è mancato qualche momento di tensione in centro, fortunatamente senza conseguenze per gli avventori. Insomma il problema sociale è riesploso al punto da gestire il fenomeno, con più attenzione nei periodi di festa, inoltre si tocca con mano una certa recrudescenza nei furti in abitazione o nelle azioni delittuose. Nell'ultimo Ponte almeno quattro furti sono stati messi a segno in città, in alcuni casi generando preoccupazione per la sorte degli inquilini. Nell'ultimo Ponte almeno